A Cosenza l'equip multidisciplinare per l'emersione, la diagnosi, la presa in carico di chiedenti e titolari di protezione internazionale vittime di tortura è nata in seguito all'incontro con alcuni operatori del CHOP di Parma e alcuni medici dell'Associazione Medici Contro la Tortura di Roma. L'equip è nata nel 2012 ed opera sulla base di un protocollo di intesa promosso dall'Associazione La Casba in collaborazione con l'Ambulatorio Medico Senza Confini dell'Ausar di Cosenza, con la Regione Calabria e con l'Asp. Dell'equip fanno parte psicologi, psichiatri, un medico legale, un ortopedico, un radiologo, una ginecologa e alcune operatrici dell'accoglienza dell'Associazione La Casba. Il compito dell'equip è la predisposizione degli incontri volti a favorire l'emersione del trauma, l'invio ai servizi specialistici e la predisposizione di percorsi di riabilitazione dal punto di vista fisico e psicologico, oltre che la redazione di una certificazione medico-legale utile ai fini del riconoscimento dello status rifugiato. Numerosi studi, in primis quello effettuato dall'Associazione Medici Contro la Tortura, dimostrano che oltre il 40% dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici presenti in Italia hanno subito una qualche forma di tortura nei paesi di origine o nei paesi di transito. Molti quelli che arrivano in Italia dopo essere passati dalla Libia. In Libia vengono spesso incarcerati e il carcere in Libia significa tortura sistematica. Fra i casi di tortura più frequentemente accertati vi è la pratica della falaca che consiste nell'abbattitura delle palme dei piedi, così come la tortura che viene praticata con gli elettrodi oppure le torture da percosse, o la tortura da sospensione che consiste nell'essere legati a una trave di legno o di ferro attraverso gli atti superiori o inferiori. Vi è poi il problema della riacutizzazione del trauma, nel senso che a un trauma subito in precedenza si vanno ad aggiungere ulteriori traumi, derivanti per esempio dal viaggio, dalle vicissitudini del viaggio o dal fatto di essere costretti a vivere per strada, essere rinchiusi nei gara o trovare accoglienza all'interno dei gas, dove il livello dei servizi minimi essenziali è di qualità bassa. Grazie! Grazie a tutti.